Senza rabbia non si può competere. Tu devi essere un angioletto fuori dal campo, la più simpatica del mondo, ti fai le carbonare con me quanto vuoi, ma quando entri in campo, te l'ho fatto vedere io prima, devi essere un animale, perché se non fai così, ti entrano tutte le paranoie, tutto lo sconforto del mondo, e tu vai giù. E nel temis da competizione non puoi permetterti di stare giù. Devi stare come una leonesse, come una tigre. Ok? Ti devi incazzare, devi avere la voglia di schiumarlo. Hai capito?